Ho scritto un libro su Heidegger perché Heidegger è stato senz'altro il più grande filosofo del secolo scorso e lo testimoniano le migliaia, dico migliaia, non mi sto sbagliando, di saggi che sono stati scritti su di lui in tutte le lingue francese, italiano, tedesco, spagnolo, americano, giapponese e allora qualche ragione per cui tutti quanti si sono rivolti ad Heidegger o per accusarlo o per confutarlo o per utilizzarlo a interloquire con lui vuol dire che effettivamente il suo pensiero è stato un pensiero decisivo e cosa pensa Heidegger? Pensa che a partire da Platone tutta la filosofia non ha fatto altro che preoccuparsi di salvare le cose del mondo e metterle a disposizione dell'uomo e questa dimensione lui la chiama metafisica metafisica è appunto la storia del pensiero occidentale a partire da Platone e con Platone occorre fare i conti perché come dice Whitehead tutta la filosofia può essere considerata semplicemente un grande commento a Platone e l'intento di Platone era detta in greco sozeintà phainomena salvare i fenomeni salvare le cose del mondo dalla possibile rapina del nulla e per questa ragione Platone organizza la visione del mondo su due scenari un scenario di eternità che lui chiama iperoragno dove ci sono le idee e uno scenario del mondo sensibile dove le cose imitano le idee può sembrare un discorso difficile ma non lo è tanto per dire che questo terreno è triangolare o che questo tavolo è rettangolare io devo avere l'idea di rettangolo e dell'idea di triangolo perché se non ho queste idee come faccio a dire che è triangolare che è rettangolare allora il mondo è una coppia del mondo delle idee e il mondo delle idee non è il mondo sensibile dove ci sono le cose ma è un mondo sopraceleste che lo chiama iperoragno al di là del cielo dove un giorno l'anima che ha conosciuto tutte le idee abitava e a seguito di una caduta è stata imprigionata nel corpo per cui noi oggi conosciamo le cose grazie ai sensi però a Platone interessa una cosa molto importante da questo punto di vista non ha tutti i torti noi non possiamo fidarci dei sensi per costruire un sapere universale e valido per tutti perché dovessimo misurare la temperatura di qualsiasi ambiente e dovessimo riferirci ai sensi di coloro che sono in questo ambiente ovviamente avremo tante temperature quante sono i nostri corpi per cui per raggiungere un pensiero una conoscenza universale e valida per tutti abbiamo bisogno non tanto dell'informazione corporea quanto delle idee Platone le aveva collocate sopra il cielo oggi noi potremmo dire i costrutti della mente per cui bisogna pensare attraverso numeri, idee, misure, quantità, qualità, pesi ecco queste sono le configurazioni con cui Platone organizza quello che d'orinanza si chiamerà metafisica perché? Metafisica perché le idee sono al di là del mondo fisico meta vuol dire al di là del mondo fisico di per sé la parola metafisica nasce da un caso particolare nella biblioteca di Alessandra di Alessandra e i libri di metafisica di Aristotele venivano dopo quelli di fisica e allora metatafisica quelli dopo di fisica sono di metafisica sono quelli che vengono dopo quindi una denominazione semplicemente di catalogo bibliotecario poi la parola ha assunto un significato molto più potente molto più significativo metafisica è pensare che c'è un al di là dove ci sono le idee che sono il modello, la misura, la regola per leggere le cose questo Platone il quale ha inventato l'anima l'anima non appartiene alla cultura giudaico cristiana i giudei non avevano la più pallida idea di anima ma è tanto meno i cristiani ne è prova il fatto che i cristiani quando nonostante siano convinti di avere un'anima e che quest'anima sia immortale quando recitano il credo cosa dicono? non credono nell'immortalità dell'anima ma nella resurrezione dei corpi perché il cristianesimo è innanzitutto incarnazione è il figlio di Dio che si fa uomo che nasce, cresce, predica, muore, risorge è una religione dei corpi attestato anche dall'iconografia se è vero che solo le chiese cristiane rappresentano corpi nelle immagini che noi ammiriamo nelle chiese mentre le altre due religioni monoteiste l'ebraismo e l'islam non prevedono corpi nei loro templi le sinagoghe hanno semplicemente delle citazioni tratte dalla Bibbia così come le moschee hanno citazioni tratte dal Corano successivamente a partire dal 400 d.C. Agostino preleva la nozione di anima da Platone e la inserisce però in un altro scenario Platone l'aveva introdotta per un problema di conoscenza per giungere ad una conoscenza universale e valida per tutti Agostino la trasferisce in un altro scenario che è lo scenario della salvezza per cui oltre al corpo noi abbiamo un'anima il corpo è corruttibile l'anima è incorruttibile nell'anima si rivela dice Agostino Cristo Dio la verità e organizza anche una visione della società come città terrena che al pari del corpo è corruttibile è una città celeste incorruttibile ed eterna questa impostazione di Agostino è diventata la forma con cui ancora oggi pensiamo di avere un'anima e un corpo in realtà nella tradizione cristiana questa concezione dell'anima proprio non ha giustificazioni con il cristianesimo chi garantisce le cose della possibile rapina del nulla? non più le idee di Platone ma Dio ecco c'è un immutabile Dio che decide quando le cose sono e quando le cose non sono e attraverso il riferimento a Dio le cose vengono in qualche modo salvaguardate questa dimensione prosegue successivamente con Cartesio il quale inventando la scienza la scienza garantisce le cose del mondo e a maggior ragione la tecnica perché la tecnica che cosa fa? innanzitutto garantisce le cose che ci sono quando poi queste cose vengono consumate ricondotte al nulla vengono riprodotte per cui la tecnica a parere di Heidegger è la forma più alta l'estrema la più garantita è la più garante soprattutto della salvaguardia delle cose del mondo ora noi oggi viviamo nell'età della tecnica e a questo proposito Heidegger ha le idee chiarissime e in una intervista che ha rilasciato al direttore di Dar Spiegel nel 1966 scrive una frase che vi leggo tutto funziona dice Heidegger questo è appunto l'inquietante che tutto funziona e che il funzionare spinge sempre verso un ulteriore funzionare e che la tecnica strappa esradica l'uomo sempre più dalla terra non so se l'hai spaventato chiede Heidegger al suo intervistatore io in ogni caso lo sono stato appena ho visto le fotografie della terra scattate dalla luna non c'è bisogno della bomba atomica lo sradicamento dell'uomo è già fatto tutto ciò che resta è una situazione puramente tecnica non è più la terra quella su cui oggi l'uomo vive bene la tecnica da che cosa è caratterizzata? a parere di Heidegger è caratterizzata da una qualità di pensiero che lui definisce pensiero calcolante pensiero come calcolo calcoli economici calcoli tecnici e nel 1952 dice ribadendo il concetto che poi espliciterà nell'intervista al direttore dello speaker che ho appena letto dirà inquietante non è il fatto che l'intero pianeta si risolva in un enorme apparato tecnico ancora più inquietante scrive Heidegger che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo ma ancora più inquietante siamo al terzo grado di inquietudine e che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero che sa far solo di conto un pensiero che sa solo calcolare in tedesco Denken als Rechnen ora questa denuncia mi pare l'essenza e la miglior visione della cultura contemporanea l'unico pensiero che noi abbiamo è un pensiero che sa far solo di calcolo non abbiamo un pensiero che sappia capire più che cos'è il bello che cos'è il buono che cos'è il giusto che cos'è il vero che cos'è il santo abbiamo solo un pensiero capace di percepire solo ciò che è utile inutile è ciò che non è utile ad altro perché ha valori in se stesso inutile per esempio è l'amore quando non è un amore di interesse utile inutile è la bellezza che non è utile ad alcunché ma è un valore in sé ora tutte queste dimensioni vengono sostanzialmente trascurate dalla nostra cultura anche l'opera d'arte diventa arte non quando esprime una qualche bellezza ma diventa arte semplicemente quando entra nel mercato e allora ancora una volta viene assoggettata al pensiero che calcola che fa di conto che guarda l'utilità che guarda il profitto questa situazione è stata denunciata da Heidegger con una chiarezza estrema come se ne esce Heidegger dice purtroppo il problema qui si pone in maniera molto seria dovuto al fatto che non abbiamo un linguaggio alternativo al linguaggio della metafisica il linguaggio della metafisica era un linguaggio che si proponeva unicamente di salvare le cose del mondo e questo linguaggio incominciato da Platone proseguito nel Medioevo riformulato in maniera ancora più stringente da Cartesio il quale dice che con la scienza l'uomo diventa padrone e possessore del mondo maître et possesseur du monde e qui potremmo dire che l'essenza dell'umanesimo che di solito siamo abituati a concepire come adiacento se non addirittura antitetico al sapere scientifico bene l'essenza dell'umanesimo è proprio la scienza anzi la tecno scienza perché attraverso la tecno scienza l'uomo diventa padrone e signore del mondo quindi non solo si riconferma l'intenzione metafisica di salvare le cose del mondo ma soprattutto si conferma che lo scopo della filosofia fino adesso non è stato altro che è il robustire sempre di più l'intenzione di Platone di rendere l'uomo padrone del mondo bene, di fronte a questa dimensione dice Heidegger come facciamo a riscattarci? c'è un primo inizio, dice Heidegger l'inizio dei filosofi che sono nati prima di Platone e che si sono occupati della natura non concependola come il pensiero calcolante fa oggi che la concepisce come materia prima ma concependola come quell'orizzonte immutabile che nessun uomo, nessun Dio fece sempre stata, è e sarà questa natura oggi viene riguardata solo dal punto di vista del suo sfruttamento e non più come terra di abitazione dell'uomo è una natura che confligge con l'utilizzo che ne fa la tecnica non da sempre perché all'inizio la tecnica era modesta e quando Eschilo nel Prometeo incatenato fa chiedere da parte del coro a Prometeo dimmi è più forte la tecnica o più forte la legge che governa la natura Prometeo risponde in una maniera chiarissima lui che aveva dato la tecnica a Giuomini dice Tecne bananches astenestera macro la tecnica è di gran lunga più debole astenestera vuol dire debolezza, astemia è più debole delle leggi che governano la natura e allora tutto è tranquillo perché la natura continua ad avere la sua dominanza rispetto all'operare umano oggi non è più così l'operare umano non è più un enclave all'interno della natura ma è la natura che è diventato un enclave all'interno di una dimensione sostanzialmente tecnica demograficamente imponente con trasmigrazione della popolazione dalla terra alle città e alle metropoli sempre più numerose e la natura si è ridotta che cosa a piccola enclave all'interno di questa città bene la natura è lo sfondo a cui fare riferimento dice Heidegger la natura intesa come sfondo immutabile che nessun uomo nessun dio fece noi abbiamo capovolto le cose è l'uomo che invece è diventato signore padrone della natura e allora noi non abitiamo più nella natura ma come ho letto in quella pagina con cui Heidegger risponde al direttore del Der Spiegel noi abitiamo la tecnica la tecnica è diventata la nostra casa e l'uomo è stato sradicato dalla natura questo sradicamento dice Heidegger è molto più pericoloso della bomba atomica perché è un'impostazione mentale è quello di guardare l'universo solo sotto il profilo della utilità bene i filosofi che sono venuti prima di Platone sono i filosofi del primo inizio quando la verità era concepita come manifestazione la parola greca è alesseia lez in greco lette vuol dire nascosto anche noi italiani abbiamo le parole latitante, letargo alesseia, alfa privativo, vuol dire non nascosto quindi manifesto la verità è il manifestarsi dell'essere della natura di ciò che appare e di ciò che si rende visibile noi oggi abbiamo tutto un altro concetto di verità e la verità la misuriamo sull'efficacia vero è ciò che è efficace ciò che produce risultati ciò che raggiunge gli obiettivi che l'uomo si è proposto e allora sotto questo profilo abbiamo una inversione del rapporto della verità non più la visione della natura ma l'efficacia del nostro operare il primo inizio rivendicava la verità come manifestazione rivendicava il logos il pensiero che consisteva nel guardare e nel contemplare e nel costruire teorie per riuscire a catturare le costanti della natura all'unico scopo di costruire una città secondo natura e la condotta della vita umana secondo natura tutto questo con Platone si chiude questo primo inizio si chiude con Platone e questa chiusura rimane tale per tutto il corso dell'Occidente a denunciare questo travisamento questa smobilitazione del concetto antico di verità prima di Heidegger è stato Nietzsche il quale ha detto sono ancora alla ricerca di un filosofo medico medico vuol dire che vuole curare una cultura, una mentalità sono ancora alla ricerca di un filosofo medico che sappia portare al culmine il mio sospetto che in ogni filosofare quindi in tutta la storia della metafisica che coincide con la storia della filosofia nel mio filosofare non si è mai trattato di verità ma di sviluppo, avvenire, potenza, vita cioè ciò che stava a cuore all'uomo era assicurare la propria vita assicurare le cose che gli servono per vivere garantirsi la sussistenza in questo mondo attraverso la disponibilità di tutte le cose e mentre la tecnica antica si limitava ad assecondare la natura per cui il murino sfruttava il vento per muovere le sue pale oggi invece la tecnica non si è contenta di sfruttare la natura ma gli interessa accumulare ciò che ottiene da questo sfruttamento vale a dire non si limita a usare ciò che la natura offre ma a incamerare i risultati offerti dallo sfruttamento tecnico della natura per averli sempre a disposizione l'essere a questo punto non è più la natura ma come dice Heidegger il bestand bestand è una parola tedesca che sta a significare deposito è il deposito è il magazzino è la disponibilità delle cose in qualsiasi momento non solo quando la natura le offre come offre il vento per far girare le pare del mulino ma a disposizione ogni qualvolta l'uomo abbia intenzione di utilizzarle per un nuovo inizio dice Heidegger non possiamo usare il linguaggio della metafisica perché il linguaggio della metafisica è un linguaggio appropriante un linguaggio che si appropria delle cose che non guarda le cose per come sono ma per come devono essere utilizzate un esempio molto semplice se un poeta o un faligname vanno in un bosco anche se il bosco offre le stesse piante e la stessa vegetazione il poeta vede ciò che il bosco offre il faligname quando guarda le piante vede già vede già armadi, sedie, tavoli cioè le guarda sotto il profilo della utilizzabilità e a questo proposito dobbiamo smettere di pensare che la scienza sia pura e che la tecnica è buona o cattiva a secondo dell'uso che se ne fa la tecnica non è un derivato dalla scienza non è ciò che viene dopo la scienza e non è valutabile solo a secondo dell'uso che se ne fa perché la tecnica è l'essenza della scienza perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo la scienza guarda il mondo per utilizzarlo e per manipolarlo quindi l'intenzione della scienza è già tecnica per cui dobbiamo parlare della tecnica come essenza della scienza e per usare la parola più semplice dobbiamo parlare di tecnoscienza non c'è una scienza pura, è una tecnica applicata la tecnica è già nella qualità dello sguardo scientifico ma che cos'è propriamente la tecnica? la tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo a proposito della parola razionalità o in generale della parola ragione questa parola non è nata nell'ambito della filosofia la parola ragione è nata nell'ambito dell'economia la razio era quello che io ti dovevo dare quando tu mi vendevi qualcosa mi dovevi dare la giusta corrispondenza del valore delle cose che io ti stavo dando redderazione, dammi l'equivalente del valore della cosa che io ti do ecco, dice Heidegger, noi al logos del pensiero aurorale, del pensiero iniziale abbiamo sostituito la razio la razio che è un'equivalenza nello scambio, un'equivalenza di valori e allora abbiamo un'economia regolata dalla razio ovvero dall'equivalenza negli scambi per cui le cose non vengono guardate dal punto di vista del bisogno che esse soddisfano ma semplicemente dalla loro capacità di scambiarsi tra di loro secondo questa razio un esempio molto semplice è che un bicchiere d'acqua svolge la stessa funzione, quella di dissetare sia qui che nel deserto ma qui non ha lo stesso valore di scambio che ha nel deserto nel deserto costerebbe molto di più e allora se le cose valgono in funzione del denaro che producono è chiaro che le cose vengono a loro volta snaturate non più misurate sulla base del bisogno ma misurate sulla base del loro valore che non è nella soddisfazione dei bisogni ma nella capacità di scambiarsi con altre cose di cui il mediatore è il denaro queste cose erano state in qualche modo già anticipate da Marx quando distingueva il valore d'uso e il valore di scambio ora sia l'economia sia la tecnica che sono i due grandi scenari dove funziona la razionalità sono regolati da questo tipo di razionalità molto semplice ma al tempo stesso molto molto semplice nella sua costituzione ma molto pericolosa qualora dovesse diventare la forma unica di pensiero come giustamente Heidegger denuncia sia già diventata la razionalità tecnica consiste in raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi questo modello è diventato anche il modello dell'economia ma l'economia non è perfetta in questa razionalità perché l'economia ha ancora una passione umana che è la passione per il denaro mentre la tecnica è del tutto esonerata da questa passione per cui la tecnica non considera l'uomo neppure le sue passioni è razionalità pura e i valori che diffonde sono esclusivamente i valori dell'efficienza e della produttività nient'altro ora se questa razionalità diventa la forma universale del nostro modo di pensare noi avremo una progressiva esclusione dell'uomo dalla storia questa cosa i filosofi l'avevano già detta da un secolo l'aveva detta Spengler l'aveva detta Heidegger l'aveva detta Jaspers l'aveva detta quel discepolo di Heidegger che era Gunther Anders l'aveva detta Severino cosa vuol dire che l'uomo va fuori dalla storia? perché se adotta e questa adozione diventa universale unicamente la razionalità tecnica bene, non dimentichiamo che l'uomo è anche irrazionale perché è irrazionale il dolore è irrazionale l'amore è irrazionale la fantasia è irrazionale l'immaginazione è irrazionale l'ideazione è irrazionale il sogno tutte queste cose per la tecnica sono elementi di disturbo che vanno progressivamente messi a lato non solo gli uomini diventano sempre meno soggetti di vita e sempre più funzionali di apparati la nostra identità non è più qualcosa che ci caratterizza perché ci viene assegnata dall'apparato in cui siamo inseriti e infatti la nostra identità viene spostata gradatamente verso il ruolo la parola ruolo viene dal latino rotulum era il rotolo su cui gli attori leggevano le parti loro assegnate bene oggi se noi ci troviamo in una riunione e i convenuti ci dicono il loro nome noi lo ascoltiamo e non ci dice niente quel nome quando ci danno il biglietto da visita in cui viene indicata la loro funzione in cominciamo ad orientarci allora l'identità dell'uomo viene spostata sulla sua sul suo ruolo è un'identità di ruolo che non dipende da lui avere ma dall'apparato che glielo consegna e quando l'apparato promuove il suo funzionario abbiamo un incremento di identità e quando lo rimuove un decremento di identità con tutte le conseguenze che ne possono derivare le conseguenze negative è cambiata persino la psicopatologia nell'età della tecnica se prendiamo per esempio una delle sindrome più pesanti e Heidegger si è occupato anche di questo non è un caso che tutta la psichiatria fenomenologica fa appello ad Heidegger e qui faccio una breve parentesi Heidegger non definisce mai l'uomo uomo eppure i tedeschi avevano la parola mensch e la parola men lui lo definisce in der Weltsein essere nel mondo cioè io sono uno che è nel mondo anche questo paio di occhiali è nel mondo solo che questi paio di occhiali sono nel mondo ma io sono nel mondo aprendomi un mondo questa è la differenza non insisto nel mondo non sono semplicemente dentro nel mondo esisto sono nel mondo ma lo vedo anche questo mondo rispondo al mondo reagisco agli stimoli del mondo mi sento impegnato dal mondo questa diventerà la struttura fondante della psichiatria fenomenologica che ha le sue espressioni in Sartre Iaspers Merleau-Ponty dal punto di vista filosofico Binsch-Wanger Minkowski Gebsattel qui in Italia abbiamo come massimo esponente vivente Eugenio Borgna e non dimentichiamo Franco Basaglia il principio teorico di Basaglia nella chiusura dei manicomi è ancora heideggeriano come si fa a pensare di guarire coloro che non sono più nel mondo perché vivono in un loro mondo che sono appunto i folli come si fa a promuoverli nel mondo rinchiudendoli Basaglia era uno che conosceva bene la psichiatria fenomenologica che è derivata proprio da questa concezione dell'uomo heideggeriano per cui l'uomo è un essere nel mondo che apre un mondo e io vivo non nel mondo come le cose ma nel mondo a partire dall'apertura e dai significati che io do al mio mondo queste cose sono molto importanti forse qui ci potrebbe essere un recupero dell'umanesimo anche se Heidegger esclude che questa sia la procedura per cui si debba recuperare l'uomo dal momento che lui dice perché lo dobbiamo recuperare dal momento che è diventato il padrone del mondo però è un uomo razionale è un uomo inquietante perché non conosce un altro pensiero se non il pensiero che sa far solo di conto come si esce qui Heidegger dopo aver esposto tutta la sua filosofia dell'essere nel mondo in essere e tempo che è un'opera che forse è stata l'opera più commentata in tutto il mondo nel novecento è un'opera interrotta e perché è interrotta? perché dopo aver descritto che l'uomo è diventato il padrone del mondo a partire da Platone e successivamente sempre di più fino ad approvare la tecnica che Heidegger include nella metafisica succede che per descrivere una nuova modalità di essere al mondo è necessario un altro linguaggio e non possiamo smobilitare tutto il linguaggio metafisico che ha duemila anni e allora si procede per tentativi e quando Klosterman, l'editore tedesco, pubblica tutte le opere di Heidegger che sono 104 volumi 104 volumi Heidegger vuole che sia messo in apertura di questa raccolta di tutte le sue opere l'espressione cenni, non opere perché cenni? perché bisogna inventare un altro linguaggio un linguaggio che non sia il linguaggio della metafisica che è un linguaggio che calcola è un linguaggio acquisitivo è un linguaggio che ha in vista il possesso che ha in vista la rassicurazione del mondo ci vuole un altro linguaggio e lui questo altro linguaggio lo va a cercare nei poeti Hölderlin, Trakl, Stefan Georg perché i poeti sono anche loro produttori noi dimentichiamo purtroppo perché le nostre scuole non funzionano e quindi non sappiamo neanche da dove vengono le parole la parola poesia a cui Heidegger fa riferimento per trovare il nuovo linguaggio deriva dal greco poiein poiein vuol dire in greco produrre ma però la produzione poetica non è la produzione tecnica che cosa producono i poeti? producono un nuovo linguaggio la poesia è una produzione di nuovi linguaggi e allora lui fa ricorso alla poesia la quale non può diventare un sistema filosofico e non lo può diventare perché non è sistematico il linguaggio dei poeti loro lanciano parole nuove e questo spiega innanzitutto perché Heidegger sia un accanito ricercatore di etimologie e dall'altro perché non è possibile costruire una filosofia come sistema attingendo il linguaggio che ci proviene dai poeti che è un linguaggio nuovo un linguaggio non metafisico non acquisitivo non concettuale che non ha in vista il possesso delle cose che è libero che si dischiude nell'aperto invece che nel chiuso del possesso questo linguaggio lui cerca di recuperarlo in un'altra grande opera che ha scritto e che ha intitolato bei trege nota anche in italiano con questa espressione che però tradotta significa contributi contributi alla filosofia aperta la parentesi dell'evento chiusa la parentesi in tedesco e Reignis cosa vuol dire questo? lo dice lo stesso Heidegger devo chiamare siccome per farmi intendere devo usare un linguaggio noto questa opera la chiamo contributi alla filosofia però è una filosofia nuova e dov'è la novità? nell'evento nell'Eraignis cioè i poeti fanno evenire un linguaggio nuovo che può essere il nuovo inizio un nuovo modo di pensare che non sia il pensiero calcolante che il pensiero calcolante affermato dal mondo economico e dal mondo tecnico naturalmente questo libro è un libro che non procedendo sistematicamente è un libro che lascia un po' tutti i sospesi e allora qualcuno ha stabilito che Heidegger è diventato un confusionario o addirittura un mistico o addirittura un esoterico solo perché l'impostazione metafisica che è nella testa di tutti noi non ci consente di accedere a questo nuovo inizio che è l'attingere da quella produzione nuova di cui i poeti sono i portatori che è la produzione di un nuovo linguaggio Heidegger è stato anche oggetto di accuse fondate circa la sua adesione al nazismo e anche qui vale la pena di dire qualcosa adesione al nazismo e adesione all'antisemitismo per quanto concerne l'antisemitismo io guardando bene tutte le cose non credo che sia stato antisemita primo perché lavorava con i suoi colleghi ebrei secondo perché quando ha iniziato il nazismo ha cercato di sistemare tutti i suoi allievi ebrei in cattedre universitarie o in incarichi universitari fuori dalla Germania fuori dalla Germania abbiamo una lettera in cui rivolta a sua moglie in cui dice non ho mai guardato se uno era ebreo o ariano ho guardato solo nei miei studenti chi era intelligente e chi no questo è l'atteggiamento di Adio sotto questo profilo lo posso anche capire posso anche capire che le accuse di antisemitismo non sono granché fondate del resto che la Germania fosse antisemita è dall'ottocento che lo era e tutti quanti pensatori a partire anche dal famosissimo pensatore tedesco Schmitt filosofo e sociologo Gadamer dice ma il fatto stesso che si sia innamorato di Anna Arendt che era ebrea forse questa è la prova che proprio questo antisemitismo non era in lui fondato per quanto concerne invece la dimensione di nazismo sì dobbiamo dirlo Heidegger ha accettato la carica di lettore all'università perché quando Von Müller che era il precedente lettore è stato trasferito i professori hanno chiesto ad Heidegger di diventare lettore onda evitare che il ministro della cultura tedesca mandasse un nazista a fare il lettore all'università Heidegger ha accettato ha accettato ed è stato lettore per otto mesi in quegli otto mesi ha evitato di bruciare i libri degli ebrei altra prova che non era antisemita e questo ha disturbato molto il ministro della cultura e tutti i professori nazisti che ormai avevano occupato le cattedre della sua università e lo obbligarono a dimettersi per mandare un rettore che fosse nazista al 100% e Heidegger a quel punto si è dimesso l'idea che io mi sono fatto è che lui era assolutamente impreparato dal punto di vista politico dopo la guerra quando è entrato il comando militare francese ha esonerato Heidegger dall'insegnamento l'ha mandato nella sua casa però nella sua casa ha aggiunto altre due famiglie e Heidegger scriveva in una piccola cameretta senza libri perché i suoi libri erano stati tutti portati via dalla sua casa è mandata all'università di Magonza ciò nonostante lui non smette di scrivere di pensare e di lavorare sempre nel comando militare francese organizza una commissione per stabilire se Heidegger è o non è nazista e la commissione è composta da Romano Guardini carli jaspers e Hartmann e tutti e tre convengono che Heidegger si è stato nazista dopodiché continua la sua assenza dall'università ma non si interrompe la sua attività di scrittura finché un giorno finito tutto il nazismo siamo negli anni 51-52 il rettore dell'università chiede a Jasper se è il caso di reintegrare Heidegger nell'insegnamento e jaspers con cui Heidegger aveva avuto una grande amicizia negli anni 20 interrotta nel 1933 quando Heidegger è diventato lettore dell'università di Friburgo risponde a questo lettore dicendo sì può essere riammesso perché se ci priviamo del pensiero di Heidegger e gli priviamo di pubblicare le sue opere ci priviamo del pensiero più grande attualmente mondiale che abbiamo a disposizione ecco questo è Heidegger quindi con tutta la sua ambivalenza con tutta la sua anche perché lui fondamentalmente che cos'era? era un uomo che beveva in cima a una montagna scriveva al lume di candela perché nella sua baita non aveva luce elettrica scendeva con gli sci come ci ricorda Gadamer quando doveva insegnare affascinato quantità incredibile di studenti Gadamer ce ne ha dato ampia testimonianza anche il suo modo di vestire era un modo di vestire da contadino ripreso molto spesso dalle autorità accademiche che ritenevano si dovesse venire vestiti in un altro modo e il fascino che però esercitava su questi suoi allievi la modalità con cui pensava l'acribia con cui sfondava i testi della metafisica la competenza filosofica ad altissimo livello non ho alcun dubbio che sia il filosofo più grande del novecento questa è la ragione per cui ho scritto questo libro su Heidegger e ho messo come sottotitolo il pensiero al tramonto dell'Occidente perché l'Occidente non potrà che tramontare perché non si può reggere una cultura e una civiltà su un unico valore che è il valore della nazionalità tecnica ed economica e allora del resto nella parola Occidente è già scritto il significato di terra della sera anzi i tedeschi lo esplicitano chiamano l'Occidente Abendsland terra della sera e dopo la sera arriva la notte e allora Heidegger si chiede andiamo precipitando verso la notte del mondo o c'è la possibilità di recuperare uno spirito europeo Heidegger muore nel 1976 ma la sua visione profetica della tecnica quando all'epoca non c'era ancora l'informatica e la tecnica non aveva raggiunto i livelli che ha raggiunto oggi è stata una dimensione profetica secondo me non ancora superata ma troppo poco pensata grazie a tutti grazie a tutti